Stiamo assistendo a una assurda presa di posizione da parte dei senatori e dei deputati, una cosa paradossale, tutti stanno minacciando, la destra siccome non riuscirà a fare il governo con Bersani ci mancherebbe anche questa, cosa fa? Minaccia fuoco e fiamma, addirittura abbiamo i giganti tipo il Brunetta che sta sbraitando a destra e a sinistra perché se no noi faremo esce fuori il capocchione che con il suo bel visino lindo dice allora se noi non andremo di qui, andremo di là, vogliano le lezioni, il giorno dopo non ne vogliano più, ma fate una finita, ci lasciate un po' in pace, ma per favore ci lasciate in pace perché se no poi entriamo noi anche in gioco, questo è un pennato che serve per tagliare la legna, c'ha la penna e c'ha la parte tagliente, lasciate, ce l'abbiamo tutti, io non voglio minacciare a nessuno, ma che nessuno si permetta di minacciare, hai capito?